La registrazione dei contratti di comodato d'uso arriva online. Dal 20 dicembre è disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio PC, insieme agli allegati, contratto ed eventuali planimetrie. Questa possibilità viene resa operativa da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che approva il modello registrazione di atto privato, RAP, da compilare e inviare esclusivamente in via telematica. La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita. Per questo adempimento era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data dell'astipolo o dalla decorrenza dell'atto. Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto. Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello RAP i dati necessari, tipologia di contratto, dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte e consente di versare contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello RAP presso un ufficio dell'Agenzia, insieme al contratto ed eventuali allegati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!